ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video haul molto particolare perché questi sono gli acquisti fatti per i black friday cyber mondo e tutti gli sconti sexy che sono usciti per per quanto riguarda sephora e quindi volevo farvi il video vi ho fatto altri video ma piano piano sto smaltendo tutte le cose che ho acquistato per non farvi un video esagerato perché nemmeno io li guardo quando sono troppo troppo lunghi ho dimezzato e ho raggruppato un po di cose per farvi dei video appositi allora cosa ho acquistato mai cosa posso acquistare mai cosa cosa e dico oh mio dio quante cose ho qua dentro ho acquistato un bel po di cosucce e ve li volevo far vedere questo è per quanto riguarda le mini size di sephora le ultime che ho preso vi faccio un video velocissimo non ne faccio swatch e altro perché sennò mi perdo di casa perché devo fare altri video e quindi inizierei subito col farvi vedere questa pochettina per quanto riguarda milk questa è una pochettina dove trovate un sacco di prodotti della milk tra cui il correttore il mascara blush e altri prodotti ad esempio questo qui azzurro questo azzurro che sarebbe come si chiama quello per rinfrescare la parte del contorno occhi io ce l'ho perché l'avevo acquistato e poi l'ho trovato anche sul calendario dell'avvento quindi uno di questo andrà sicuramente mia sorella perché lei li voleva poi ci sono altri tipo di prodotti anche il primer viso questo qui che è famosissimo io lo vedo tantissimo su instagram un sacco di ragazze americane lo utilizzano proprio quando fanno quei mini video che vi piacciono tantissimo vediamo se dice sotto giù quello che c'è c'è un mini blush scusate c'è un mini mascara poi c'è un mini primer il mini dove è scritto un mini cooling water quindi per rinfrescare la parte poi c'è uno shimmer un highlighter un matte bronze comunque è un set dove trovate tutte le mini taglie di milk quindi se volete provare i prodotti non sapete cosa scegliere nella full size comprate questo questa box diciamo delle mini size e così avete la possibilità di provare i prodotti senza spendere chissà quanti soldi quindi è ottima come cosa io in più avevo acquistato questo non so se potrebbe essere questo qua non lo so poi controllo sinceramente perché ho preso questo qui che è un minimizzatore vediamo se lo stick uniformante ed è per come si dice per i pori e questo è per i pori ve lo faccio vedere perché se non lo utilizzo glielo do alla mia sorella quindi lo posso aprire tranquillamente ed è questo qui alcune persone se ci trovano bene altre come al solito se ci trovano male ovviamente in base anche alla vostra esigenza e al vostro tipo di pelle io ho sentito parlare bene di questo stick quindi l'ho voluto prendere vediamo se trovo la parte in italiano stick effetto seta è un primer leggero e opaco effetto seta antipori ecco per i pori adatta a qualsiasi tonalità di pelle passare sulla pelle idratata come primer per un effetto seta opacizzante questo dice che minimizza i pori quindi l'ho voluto prendere per metterlo proprio nella zona vicino al naso e un po qui nelle guance io non ho proprio i pori dilatati però lo volevo utilizzare proprio per vedere se funzionava oppure no un altro prodotto per quanto riguarda queste mini size io lo volevo assolutamente volevo prendere quelli grandi dove ce n'erano un bel po ma essendo non brava a utilizzare il contouring o la terra ho voluto prendere la parte piccolina di questo e ho voluto prendere la parte piccolina questa qui della to face per quanto riguarda il matte bronze queste nella versione matte ed è guardate che piccolo cioè quanto il palmo del più piccolo del palmo della mia mano è molto molto bello perché ha un packaging particolarissimo che è questo bello 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 ha la chiusura a forma di cuore che è una cosa bellissima poi si apre e ha uno specchietto e questo è il colore devo dire che è un colore neutro perlomeno a me sembra un colore neutro io ve l'ho detto ancora non sono molto brava per quanto riguarda il contouring è tutto perché voglio provare a utilizzarlo per vedere se va bene oppure no per la mia carnagione non lo so se è scuro per me lo devo provare poi vedere se è sfumato riesco a ottenere il l'effetto che mi piace io non sono una di quelle ragazze che dice a faccio il contouring io non sono brava per questo e quindi aspetto a utilizzarlo nel senso prima mi ci metto e vedo se riesco a fare un contouring abbastanza diciamo decente da farvelo vedere anche a voi un altro prodotto che ho voluto prendere questo l'ho sentito nominare tantissimo da giorgia gioio 91 lei aveva preso se non mi sbaglio la full size ma all'inizio diceva dava quell'effetto di freschezza ma poi non ha avuto la stessa diciamo gli si è tolta subito questa freschezza del per quanto riguarda la cipria perché queste questa cipria ha un effetto tipo bagnato fresco sul viso e lei dice che all'inizio ha avuto questo questa sensazione ma adesso questa sensazione non gliel'ha data quindi ho voluto prendere la cipria la setting powder di becca in formato piccolo così da provarla se non mi piace diciamo non è stata una spesa abbastanza elevata il packaging è in questa maniera quindi specchiato con la con la parte separata non so se si vede aspettate che adesso mette a fuoco vediamo se riesce a mettere a fuoco vedete vedete alla ghiera quindi se spostate in automatico esce la polvere e da questo lato no e quindi questa è una cosa che mi piace tantissimo così non c'è la fuoriuscita di di tanto prodotto un altro prodotto e questo veramente sono molto molto contenta di averlo preso anzi me ne sono pentita di non aver preso gli altri colori perché quando mi sono diciamo convinta nel prenderlo gli altri colori erano sold out quindi mi dispiace tantissimo ho preso questo set di nars aspettate l'ho messo al contrario di nars che sarebbe questo ed è molto molto bello perché questo è soft core ed è orgasm dove abbiamo questi due prodotti ve li faccio vedere sono molto molto belli specialmente se li dovete regalare sono una cosa eccezionale cioè è un pensiero molto molto bello perché avete un mini un mini blush e un mini rossetto che è di un packaging stupendo allora questo è il blush nella colorazione orgasm aspettate che ve lo faccio vedere questo è lo specchietto e qui abbiamo vedete il prodotto vediamo tolgo la plastichina vi faccio vedere il prodotto ed è questo ed è bellissimo veramente molto molto bello è una cosa veramente da collezione e poi c'è il mini rossetto cioè guardate che bello cioè è stupendo veramente con la scritta ovviamente nars e questo è il rossetto è un rossetto è un rossetto schirro ovviamente che da quella lucentezza se lo mettete tipo al centro sul al centro delle labbra ed è molto molto bello perché è una cosa particolarissima adesso vi faccio vedere una cosa che ho visto utilizzare una ragazza americana ho cercato qual'era questo questo ombretto e quindi l'ho voluto prendere ed è un ombretto di natasha denona che sarebbe questo ombrettino qua questo è la confezione semplicissima di questo ombretto questo è la scatolina dell'ombretto è un duo chrome ed è un top coat ci sono varie colorazioni ma io ho preso la terracotta green ed è bellissimo il packaging all'interno è questa qui una scatolina semplice e questo è diciamo l'ombretto è un duo chrome ed è stupendo questo è il colore dell'ombretto ed è bellissimo aspettate questo lo voglio applicare sul velometto vediamo se mi viene bene no perché non c'entra il dito comunque l'ombretto è questo guardate qua ed è stupendo una ragazza lo indossava in un video e l'aveva messo sopra altri ombretti ovviamente ed era pazzesco una cosa veramente molto molto bella non so se si riesci a vedere ecco questo ed ha questo effetto duo chrome che è molto molto bello io me ne sono subito innamorata quando l'ho visto e ho detto no deve essere mio questi ovviamente li ho presi con lo sconto quando c'è stato lo sconto quindi non non mi sono venuti tanto per questo anche li ho presi un'altra cosa che ho preso questo con i prezzi sexy la palettina questa qui di zoeva io l'ho vista ho detto vabbè apriamolo vediamo com'è e mi è piaciuto tantissimo devo dire che mi è piaciuto tanto costava 18 euro io l'ho pagata 14 che sconto che ha fatto sephora che sconto comunque la palettina è così in cartone ovviamente si apre questa palettina si chiama precisius ovviamente poi farò un make up con questa palettina perché mi piacciono tantissimi i colori poi si apre e ha uno specchio abbastanza grande e questi sono gli ombretti cioè ditemi voi se non sono degli ombretti fantastici fantastici cioè vedete questo colore quest'altro qua cioè questo bellissimo belli 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 veramente io quando l'ho visto ho detto subito ok ti porto a casa con me perché mi piace tantissimo sono proprio dei colori che io utilizzo tanto cioè è una palettina stupenda cioè questo è il mio colore preferito questo qua bellissima bella 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 io come palettine della zoeva ne ho due se non mi sbaglio più quella piccola che ho trovato nel calendario dell'avvento che non mi piace molto però amen poi per finire andiamo con due palettine della Natasha Denona e ho voluto prendere queste due ovviamente le ho prese sempre scontate tutto quello che avete visto l'ho preso scontato quindi è inutile dirvelo 300 volte e ho preso la mini star palette questa qui e ve la faccio ovviamente vedere è bellissima non vedo l'ora di truccarmi con questa palettina questo è il packaging così mi farò la foto questo è il packaging ed è bellissima questi sono gli ombretti questo si vede male questo è una specie di duo chrome qua si vede bene se lo avvicino si vede un po' male comunque questa è la palettina si vede l'avvicino la volete avvicinata questo si vede bene vabbè allora mi piace tanto è una palettina che si vero non potete fare tantissimi makeup perché ha un range di colore abbastanza minimo perché ha due opachi e tre glitterati ma questo mi piace troppo questo io me ne sono proprio la palettina questo questo qua basta mi piace troppo c'è un bel colore poi non lo so perché ma mi sto fessando con il verde io che è di norma il verde non l'ho mai utilizzato e questa è una bellissima palettina ovviamente poi vi farò un makeup solo di questa l'altra che ho preso è la mini gold palette ed è questa qui un'altra di queste c'è chi si trova bene c'è chi si trova male io sono come San Tommaso ci devo mettere il naso e quindi ho voluto prendere questa sempre perché a me il verde non piace e quindi ho preso questa palettina mi piace anche questa anche qui abbiamo due matt che sono questi due tutto il resto è shimmer devo dire che sono dei belli ombretti belli 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 non ho il coraggio di acquistare quella grande sinceramente perché già con questi mi ci trovo bene il costo è di 25 euro sapete tutti il costo delle mini palette è 25 io li ho presi scontati quindi diciamo ne valsa la pena non ho il coraggio veramente di comprare quelli grandi perché ho tantissime cose quindi sicuramente non le utilizzerei o se la utilizzo utilizzo tipo che so 5 o 6 ombretti nel confronto di tutti gli altri e quindi non ne vale sinceramente la pena allora che dirvi ragazzi a me è piaciuto tantissimo farvi vedere tutte le mini taglie per quanto riguarda Sephora ditemi ovviamente cosa ne pensate aspetto i vostri commenti giù proprio giù 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 e niente ditemi cosa ne pensate se vi piacciono non vi piacciono ditemi quello che volete basta essere educati io vi mando un grossissimo bacio anche con le mini taglie e vi auguro una bellissima giornata dipende quando vedrete ovviamente questo video io vi saluto e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video sfolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao